Ci siamo e siamo quasi, vabbè, con gli appuntamenti dell'Estea e più in particolare in compagnia di Michele, il nostro reverendo che chiaramente arricchisce l'Estea il martedì e il venerdì. Allora Michele come sta andando? Sta andando alla grande, c'è tantissima gente, bella direzione, bello staff, molto interessante, veramente bello il martedì e venerdì, pieno di gente, venite a visitarci, bella musica, belle situazioni, veramente tanto, 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 tanto. Come si comporta quest'uomo? Molto bene, bravo, fa bellissima musica, belle canzoni. Ma mi hanno detto che siete bravi davvero, è vero? Così dicono. Voi che cosa dite di voi stessi? Noi siamo molto, ci autocritichiamo, però poi alla fine riusciamo a trovare delle soluzioni favorevoli. Bene, allora ritorniamo ancora una volta Michele ad invitare tutti quanti quelli che non conoscono ancora l'Estea a venire qui non solo il giovedì che è la nostra serata, quella di Sud 200 by Night, ma anche a fare l'appuntamento, a seguire l'appuntamento del martedì e del venerdì. Allora, invitiamo tutti quanti il martedì e il venerdì con questa splendida musica, ringraziamo questo bellissimo pubblico, grazie a tutti all'appuntamento con l'Estea, con Reverendo Live e Stone Age Live qui, su queste sedi. Grazie. Grazie a tutti. 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 invito a tutti gli amici a venire qui all'Estea, vi invito a venire qui all'Estea, quest'anno e l'anno prossimo perché io mi ripropongo per l'anno prossimo qui all'Estea, mi ripropongo pure io allora a sto punto, allora Alfonso, oggi davvero i numeri iniziano a parlare da solo, bella gente, una situazione che va in work in progress, si continua ancora ogni giovedì, sempre con Alfonso Zambrano, e le telecamere di studio 100, e poi, e poi, e poi, e poi le splendide girl, e poi c'è la limusina, e poi c'è tanta, tanta, e poi il direttore e poi quant'altro, e il direttore vive il direttore, vive il direttore, vive il direttore, vive il direttore il direttore Giacomo, un buon motivo per venire qui all'Estea, ha un buon motivo per venire all'Estea, divertimento assicurato innanzitutto, poi io faccio parte di un piccolo gruppo che si chiama Zero Problemi, il signor Nuzio mi ha dato un'ottima ospitalità per mettere a precisione la situazione, voglio precisare che io sono un piccolo, 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 ma piccolissimo membro del gruppo Zero Problemi, il presidente che non è attualmente presente, io gli voglio fare un saluto particolare, il signor Gaetano Marangi, presidente del gruppo Zero Problemi. Stasera sono venuto per la prima volta, mi sono molto divertito. Sono contento, ci ritornerai? Certamente, io invita gli amici a venire il giovedì all'Estea. I miei amici del gruppo... Uno, due, tre, Franco, vai! Zero Problemi, presenti all'Estea giovedì sera, a partire dalle 23 in poi, il mio migliore amico Nuzio. Amici di Studio 100 by Night, conclusa la notte dell'Estea, del giovedì dell'Estea, ci prepariamo già per la prossima. Vi richiamiamo numerosi ad esserci qui all'Estea, lungomare, eroi del mare a Castellaneta Marina, non lo dimenticate. Veniteci a taggare tutte le foto di Facebook che condivideremo insieme a voi in questi giorni. Venite a vedere i nostri video, i video dell'Estea e anche di tutti i posti che naturalmente Studio 100 by Night visita per voi, su youtube.com slash 100 by Night. Per questa notte è tutto, grazie per essere stati con noi, Antolino Ingenito, operatore di ripresa, Alfonso Zambrano che sono io e alla prossima vi aspettiamo. Non lo dimenticate, Estea, l'estate continua! Grazie a tutti! Grazie a tutti!